benvenuti in questo nuovo video oggi non siamo su clash royale normale del classico gameplay opening chest ma siamo su clash royale i segreti di clash royale sono andato a cercare in molti siti e per fortuna ho trovato un sito adeguato a questo video che volevo fare allora in pratica come potete vedere qua vedrete sotto silver silver gold silver silver gold silver 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 magic questo è l'ordine delle chest è l'ordine che ho scoperto sia vero perché ho provato io con il mio nuovo account con il mio nuovo account ad applicare questo qua e mi sono uscite vabbè a parte le ceste iniziali che sono cesto maggio quelle delle prime sette dieci non so quante sono le prime arene poi escono fuori tre silver gold silver silver gold silver 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 magic e quando ho visto questo sito e ho provato con il mio nuovo account ho scoperto che siano vere e come potete vedere la le silver sono quelle in maggioranza e le magic la prima magic magical chest la troviamo all'undicesima posizione poi troviamo altre gold silver gold e poi troviamo al cinquanta al cinquantunesimo posto una giant giant chest che io già ho superato con il mio primo account perché ancora non esistevano le giant chest e io già ho aperto già l'avevo superata poi se scrolliamo giù possiamo trovare dopo un bel po di tempo mesi e mesi di gioco possiamo trovare la al cento trentunesimo posto la magic la magica il cesto un'altra magica poi al centocinquantottesimo un'altra giant al cento novantesimo un'altra giant al 200 teresimo un'altra magic poi scendiamo 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 non troviamo più niente dopo il 239 praticamente risale tutto e troviamo e riniziamo da capo silver 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 gold silver silver gold eccetera eccetera e queste questa è la dimostrazione che funziona funziona davvero vi lascerò questo sito in descrizione mi pare sia un sito giapponese non so e niente e niente mu vi farò vedere un mio amico vi parlerò anche delle super magica al cesto allora subiamo un attimo il video e ci rivediamo tra poco eccoci qui ragazzi come avete sentito dalla musichetta di sottofondo siamo entrati nel gioco clash royale e come potete vedere ho fatto dei nuovi aggiornamenti al mio decchino ho aggiunto le fraccette questi questi due li ho portati al 7 e questi due li potrei portare al 7 li porterò tra un po con calma qua abbiamo due donazioni da fare qua i cosi mi sono finiti e quindi sono cazzi e come vi stavo dicendo ora parleremo delle grandissime super magica al cest le super magica al chest sono quelle che contengono 360 carte di cui 12 epiche che mi servirebbero davvero tanto 72 rare e 3000 euro se c'hai culo 3000 euro se no 2400 oppure vabbè tra quale cifre lì più o meno meno di 2400 no ma più di 3000 no e quindi allora le super magica al cesto sono completamente casuali cioè ci devi avere una botta di culo per trovarle e insomma quando trovi una super magica al chest praticamente il ciclo si stoppa cioè se te se prima della magica al chest praticamente è come se non esiste la magica al chest perché se c'è una silver e invece di uscire una silver ti esce la magica subito dopo ti uscirà la silver che doveva uscire al posto della magica e quindi praticamente il ciclo è lo stesso solo con una con una chest in più che è da contro coglioni e ci deve molto culo ora stop un attimo il video per farvi vedere che si possono trovare le super magica al chest perché un mio amico l'ha trovata mortacci su adesso un amico che ha trovato la super magica al chest come potete vedere ha trovato la super magica al chest e poi ci ha fatto vedere che ha trovato abbastanza roba inutile a parte il principe sei principi 45 al chile la mongolfiera l'arco x 2000 oro e le bombe goblin e niente come potete vedere l'ha trovata mortacci su a sto stronzo de merda ti invidio tantissimo la potevi aprire magari in arena 4 così ti dava il doppio della roba scelte sue cazzi suoi non ha trovato domatori niente niente e mi raccomando per questo video voglio almeno no almeno speriamo di arrivare almeno a 100 like guarda vi sto chiedendo davvero tantissimo però 100 like spero che ci possiamo arrivare mi raccomando se questo video vi è piaciuto lasciate like commentate iscrivetevi al canale e noi ci si becca nel prossimo video bella